Due consiglieri regionali appartenenti alla provincia di Pesero Urbino, come il fanese della Lega Luca Serfilippi e il pesarese di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi, sono stati nominati oggi dal Consiglio regionale delle Marche come nuovi presidenti delle commissioni Governo del Territorio e Sanità. Serfilippi succede ad Andrea Maria Antonini, recentemente promosso ad assessore regionale, mentre Baiocchi succede ad Elena Leonardi, che invece è stata eletta in Senato. Sono onorato di questo nuovo incarico, un incarico sicuramente molto complesso, ma sono ben consapevole di quello che ci aspetta, abbiamo approvato poco tempo fa la commissione in commissione la riforma dell'organizzazione, adesso ci aspetterà il nuovo piano sociosanitario, prendo le redini dell'ex presidente, la senatrice Elena Leonardi, sono molto felice anche dei consigli che mi ha dato, ma ancora per scaramanzia chiaramente non avevo detto assolutamente nulla. Ci aspetta un cammino molto importante, ma sono certo che con la collaborazione di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, potremo fare sicuramente un ottimo lavoro. Io penso che il comparto medico, il comparto della sanità ha bisogno di essere assolutamente ascoltato, ci sono tante cose da migliorare, da correggere. L'intenzione e l'ottimo rapporto che mi lega anche all'assessore della sanità Filippo Saltamartini, sono certo che questo mi porterà a dare un contributo, dare una mano a migliorare le cose, veramente con l'aiuto di tutti. Sicuramente è un incarico importante per la quale ringrazio i colleghi della maggioranza e il mio partito che mi ha disegnato come presidente. Innanzitutto la nuova legge urbanistica che presto approderà in commissione, la giunta penso che approverà molto brevemente. Abbiamo importanti sfide come commissione, appunto dalla legge urbanistica al piano delle infrastrutture, due punti programmatici rallentati dalla pandemia che dovremo immediatamente il prima possibile approvare come consiglio regionale.